In nomine Patris e Figli e Spirito Santi. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia. Vengono le tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con i spiriti più ardenti che mi ammettano a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sorana, regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 30, 12 giugno 1932 Per chi vive nella nostra volontà, tutte le opere nostre le trova tutte in atto e fatte per lei. Chi vive nella Divina Volontà, forma l'ufficio di Venticello alle opere divine. La mia piccola anima si gira sempre nel Fiat Divino, sente l'irresistibile bisogno di vivere in esso, perché in esso trovo tutto a mia disposizione, tutto è mio, anzi, sento come un invito segreto che tutte le cose create mi fanno nel fondo del mio cuore, che con voci mute mi dicono Vieni in mezzo a noi, vieni a possederci e a godere le tante belle opere che fece per te e per darci a te il nostro creatore. Oh, che dolce incanto tiene tutto il creato, guardato attraverso i veli della Divina Volontà. Ma mentre la mia piccola anima era come involta nel dolce incanto di tutto il creato, il mio amato Gesù, ripetendomi la sua cara visitina, mi ha detto Figlia mia benedetta, per chi vive nella mia Divina Volontà tutto è presente, il passato e il futuro non esiste per essa, tutto è in atto. Siccome entra nell'ordine divino, la nostra paterna bontà non vuol dare un amore passato che tenne nella creazione, né un amore che deve avvenire, questo non farebbe breccia nel cuore della creatura. Perché a lui sembrerebbe che l'amore che sprigionò dal nostro seno nella creazione sarebbe come un amore ed opere non diretti per lei e quelli dell'avvenire come amore ed opere da sperare. Molto più che in noi neppure esiste passato e futuro. Passato e futuro è per chi vive fuori della nostra volontà, perché guarda solo l'esteriorità delle nostre opere, non dentro di esse. mentre chi vive in essa guarda le nostre opere dentro di noi e guarda la nostra creazione continua e per ciascuna creatura. sicché per la felice creatura che vive nel nostro volere le facciamo vedere e toccare con mano il nostro atto di stendere il cielo di creare il sole, il vento, l'aria, il mare e così di seguito tutto per lei ed ella vede e comprende con chiarezza il nostro intenso amore in ciascuna cosa creata per essa la nostra potenza e sapienza nell'ordinarle per amore suo in modo che si sente coinvolta e come affogata sotto le onde del nostro amore della nostra potenza della nostra sapienza e bontà di ciascuna cosa creata e mentre si sente affogata vede che non accenna a finire la creazione per lei non dice mai basta ma continua continua sempre l'atto creante ed essa vedendo che il nostro atto creante ed operante non cessa mai fa eco al nostro amore e non cessa mai di amarci o com'è bello trovare nella creatura un amore continuo che mai cessa come non cessa il nostro anzi la creatura vedendosi affogata dal nostro amore continuo di sostenere l'atto creante per amore suo per ricambiarci fa uso dei suoi stratagemmi e per imitarci e ci dice maestra suprema o se avessi potere anch'io farei tanti cieli soli tutto ciò che sapete fare voi per amore vostro ma già che non posso vi do a cielo e solo tutto ciò che mi avete dato per dirvi che voglio amarvi assai assai ed ho come restiamo contenti contraccambiati che la creatura si serve ci dà del nostro amore fatto suo per amarci perciò nella nostra volontà non ci sono cose dissimili tra creatore e creatura se la creatura ama si serve del nostro amore per amarci se opera opera nelle nostre opere ne ama ne opera fuori del nostro amore e delle nostre opere possiamo dire che il nostro amore è suo ed il suo è nostro e le nostre opere le abbiamo fatte insieme ecco perciò questo vivere nel nostro volere felicità a noi e la creatura perché noi la creiamo perché vogliamo avere che ci fare con lei stare insieme operare insieme felicitarci e amarci insieme il nostro scopo non era di tenerla lontana no no ma insieme è fusa con noi e per tenerla assorbita le davamo il nostro atto creante ed operante il quale come creava le cose così formava le sue onde d'amore e apriva vene di felicità nella creatura in modo che essa doveva sentire dentro di sé non solo la nostra volontà la nostra vita operante e palpitante ma il pelago delle nostre gioie e felicità nostre da sentirsi il paradiso nell'anima sua e non solo la creazione sta sempre in atto come pure la redenzione sta sempre in atto chi vive nella mia volontà divina sente l'atto continuo della mia discesa dal cielo alla terra e che proprio per lei per amore suo io scendo concepisco nasco patisco e muoio tutto è per essa e per rendermi la pariglia io scendo ed essa mi riceve concepisce in me rinasce con me fa vita insieme con me muore con me per risorgere con me non vi è cosa che ho fatto che essa non vuole fare insieme con me sicché la sento inseparabile dalla creazione inseparabile dalla redenzione e da tutto ciò che feci e se è inseparabile da tutte le nostre opere dalla mia stessa vita che cosa non devo dare a chi vive nella nostra volontà come non devo accentrare tutto in lei il mio amore non lo sopporterebbe se ciò non facessi perciò se vuoi tutto vivi nella mia volontà io non so dare cose a metà ma tutto ed avrai il gran bene di sentire in te il nostro operato in atto continuo come comprenderai quanto sei amata dal tuo creatore e quanto sei obbligata ad amarlo dopo ciò mi sono tutta abbandonata nelle braccia della divina volontà ma la mia mente per certi dolorosi ricordi era inquieta ed il mio dolce Gesù avendo di me compassione è venuto in mia benedetta la sua benedizione è stata come rugiada benefica che mi ha messo nella perfetta calma e mi sentivo come una piccola piccina piccina tutta timida uscita e liberata da una tempesta ed il mio amato Gesù tutta bontà mi ha detto mia figlia buona coraggio non temere perché il coraggio è l'arma potente che uccide la timidezza e mette in fuga ogni timore metti tutto tutto da parte viene nella mia divina volontà formare il tuo venticello in tutte le opere nostre mentre stanno tutti in ordine nel nostro Fiat non si muovono vogliono il venticello della creatura per muovere il passo verso di esse e se il venticello è forte corrono volano per essere portatrici del bene che ciascuno per la nostra possiede sicché l'anima che entra nella nostra volontà come entra si unisce con gli atti nostri per fare i suoi nei nostri e come si unisce così forma il venticello con la stessa forza della nostra volontà muove chiama rapisce forza col suo dolce penetrante venticello tutte le opere nostre e le mette in via verso le creature o come restiamo contenti come sospiriamo questo dolce e refrigerante venticello che la creatura ci porta nel nostro volere perciò sia attenta né voler perdere la pace altrimenti non potrai venire nella nostra volontà a formare il tuo venticello i dolci refrigeri la freschezza al nostro ardente amore ed il moto alle opere nostre perché non entrano se non le anime pacifiche nel nostro volere per gli altri non c'è posto e non sentendo di seguire i suoi passi ed essendo le sue opere non corteggiate dal suo venticello dal tuo venticello con dolore essa dice oh la figlia del mio volontario è stata dietro e mi ha lasciata sola senza la sua compagnia ora figlia mia tu devi sapere che il nostro essere divino come creò l'uomo così si restò sopra di lui in atto di piovere da noi santità luce amore bontà bellezza e così di seguito onde l'uomo col sottrarsi dalla nostra divina volontà si sottrasse da sotto la nostra pioggia quindi l'anima che viene nella nostra volontà siccome quei suoi atti nei nostri ci forma il venticello e muove tutte le nostre opere noi formiamo la pioggia e ci riversiamo prima sulla fortunata creatura e poi su tutti e come il venticello favorevole nel nostro fiat chiama la pioggia la invoca la sospira dal nostro essere supremo così l'operato della volontà umana fuori della nostra forma il vento contrario e da lontana la nostra pioggia benefica e ce la fa restare per aria ecco perciò si vedono molte creature come terre aride senza fioritura e senza frutti ma questo non nuoce per chi vive nel nostro potere divino essa si apparte da tutti e viene a vivere con la sua famiglia divina e sente sopra di sé la nostra continua pioggia che forma sopra di essa la nostra divinità hmm grazie a tutti Ora, dire, come abbiamo visto all'inizio di questa meditazione, che per chi vive nella mia divina volontà tutto è presente, il passato e il futuro non esiste, per essa tutto è nato, significa dire all'uomo, guarda che la tua percezione soggettiva, anche per se reale delle cose, non è l'assoluto. Era il filosofo sofista Gorgia che disse una delle più grandi corbellerie, blasfemie e atti di intollerabile protervia e superbia che siano mai stati detti. Sapete cosa disse quest'uomo? Attenzione che oggi nel contesto culturale in cui siamo immersi, Gorgia è bello che risorto e ampiamente seguito. Gorgia disse, l'uomo è la misura di tutte le cose. Mi ricordo se era Gorgia o se era, forse non Gorgia, forse era Protagora, comunque uno dei due. Vedete che scherzetti che fa la memoria. O Gorgia o Protagora? Due o tre grandi esponenti del movimento sofistico greco. Comunque, l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Proviamo un attimo a riflettere su questa cosa. Vediamo se, faccio un attimo di pausa e chi ascolta, è in grado di scoprire subito la blasfemia e come dovrebbe essere cambiata questa cosa per essere vero. Ci rendiamo conto di quello che significa questa frase? Cioè una cosa è in quanto io la riconosco, secondo Gorgia o Protagora, secondo quindi questo pensiero sofistico, se è in quanto io la concepisco, la riconosco come esistente, altrimenti non esiste. Cioè se io non la percepisco come tale, quella cosa non esiste. E viceversa. Ora, c'è un piccolo problema, che il soggetto di questa frase non è l'uomo, ma è Dio. Dio è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono, non l'uomo. Ha tutto questo per dire che stiamo molto attenti. Guardate, io più tempo passa, ringrazio anche il Signore per questo qua, chissà se questo è una, mi chiedo ogni tanto se questo sia un effetto della Divina Volontà. Io più tempo passa, più capisco proprio il limite enorme, proprio strutturale, dell'essere umano sotto tutti i punti di vista. Ci sono dei limiti legati alla nostra condizione miserevole. Tu puoi sforzarti quanto ti pare. Ieri è stata la festa di San Giovanni della Grossi. Tu puoi, lui lo spiega benissimo, tu dici, guarda Signore, io voglio diventare proprio santo. Adesso io rinuncio a tutto, non faccio più niente, che ne so, spengo la televisione, cuido completamente, chiudo la musica, che ne so, me rinchiudo dentro un eremo, d'accordo, non penso a fare stata una pregata la mattina o la sera. Puoi farle queste cose, sono dei grandi eroismi e il Signore ti ricompenserà, ma c'è un però. Pure se tu farei tutte queste cose, certamente le puoi fare aiutate dalla grazia di Dio, tu non ti libererai dalle tue miserie, dalle tue imperfezioni, dal fatto che ogni tanto la testa se ne è fatta per aria, che ti ristrai nella preghiera, cioè tutte quelle cose. Dalla concupiscenza stessa, che ogni tanto ti prende, si ricordano gli esempi di San Benedetto e di San Francesco, sono buttati dentro le spine e di certo non è che loro avessero attizzato, mi si perdoni, insomma questi bollenti spiriti con attività consapevoli, no? Mica vorremmo pensare che San Benedetto o San Francesco vedevano cose oscene o pensavano cose oscene, no, se le sono ritrovate addosso ci possono fare niente, questo lo scrive anche San Paolo nella Letta dei Corinzi, no? Lo stimolo scarnis. Perché queste si tratta di connotazioni strutturali, cioè noi siamo in stato di natura decaduta, amici? Stiamo interdetti, questo nel libro di Tenera Amata si capisce benissimo, e quanto più prendiamo coscienza di questo status, tanto più apprezzeremo e annelleremo il Regno della Divina Volontà in cui è promesso dal Signore di tirarci in qualche modo fuori da questa cosa. Le nostre conoscenze, parla uno insomma che sta tutto il giorno, va anche troppo a parlare in continuazione, a fare catechesi, il nostro Signore ha messo a parlare di queste cose qui, ma c'è molto poco quello che possiamo balbettare sull'Altissimo, sono molte di più le cose che non conosciamo, che non capiamo bene, che non comprendiamo. Io credo che situarsi in questa situazione, proprio Tenera Amata dice questa cosa deve diventare una convinzione pratica operativa, cioè, e sapete quando è che diventa tale? Noi abbiamo una spia, vedi come reagisci quando qualcuno ti fa una loda e un complimento, che ti attribuisce qualche cosa di grande, se tu ti compiaci interiormente, ti gonfi, stai ancora lontano da questa cosa qua. Se tu, non dico, ma addirittura quasi ti infastidisci, dici ma, vabbè forse avrò pure fatto per grazie a Dio una cosa fatta dritta, per grazie a Dio non certo per me, ma io non sono grande. Io sta cosa mi è venuta dritta e se è venuta dritta è comunque molto imperfetta agli occhi dell'Altissimo, solo perché il Signore mi ha aiutato. Ma questo non è un modo di dire, non è un modo di atteggiarsi a giocare a fare l'umile senza esserlo. No. È una cosa che tu senti nel profondo del cuore. E così come reagiamo dinanzi a un biasimo, dinanzi a una critica, dinanzi a una cosa brutta che viene detta di noi. Quanto ci fa male? Cioè, perché questo è il problema. Bisogna vedere quanto ti fa male. Se ti fa male poco, vuol dire che tu pensi che se una persona pensa male di me, ma questa cosa che pensa non è vera, io non sono così, può darsi pure che sia vero. Pensa una calunnia, ti attribuisce del fango inesistente. Ma non è che se quella cosa che pensa non è vera vuol dire che tu sei perfetto. No. Si è sbagliato a pensarla. Se ne pensava un'altra, peggio, magari peggio. C'era ragione. Uno dei limiti che ci sono, per esempio, è che adesso io non riesco a, non posso, non lo so se chi mi ascolta capisce quello che sto dicendo, perché non posso, diciamo così, in qualche modo comunicare la percezione interiore che ho di queste cose, proprio di quanto sia importante questa dimensione. Gesù dice, se non accogliete il regno di Dio come i bambini, non entrerete in esso. Hai nascosto queste cose ai sapienti, ai saggi, ai dotti, ai intelligenti, ai riperati, ai semplici, agli umili. Ecco, queste frasi dobbiamo meditarle abbastanza spesso e valgono anche per la divina volontà. Allora, il passato e il futuro, tutte queste considerazioni, siamo rimasti ancora a questo primo pensiero, esistono solo per noi, non esistono per Dio. E per noi esistono fino a quando saremo legati a questo status di viatori, perché poi, e qui ci abbiamo tenere amato, poi c'è l'eternità creata. Cioè, non c'è più, come dire, il legame con l'istante attuale, anche se nell'eternità creata il tempo c'è, ma non come adesso. Si ha poteri su delle dimensioni del tempo, che qui ce li sogniamo, tipo le frazioni infinitesimali del tempo, dove accadono tantissime cose, ma in cui adesso, in questa vita, non ci possiamo entrare. Dio addirittura abita l'eternità increata, dove c'è l'eterno presente, che è un concetto per noi trascendente. E oggi Gesù ci dice, t'attento che se vivi nella mia divina volontà, per te non esiste più passato e futuro. Dice, mamma mia, in che senso? E Gesù l'incalza passato e futuro. Perché vive fuori della nostra volontà? Perché guarda solo le esteriorità delle nostre opere, mentre chi vive in essa guarda le nostre opere dentro di noi e guarda, attenzione, la nostra creazione continua per ciascuna creatura. Cioè, qui mi viene in mente un pensiero di San Paolo, che l'uomo carnale non comprende le cose dello spirito, esse sono follia per lui. Dice, io vi sto parlando con termini molto terra-terra, vi sto dando il latte da dare ai bambini, ci sono alcuni passaggi dei libri di cielo, faccio questo riferimento, che sono veramente alta spiritualità. Per cui non c'è da stupire che qualcuno ogni tanto dice queste cose e non le capiscono, non le capisci perché ancora non sei uno spirituale, direbbe San Paolo, uno pneumaticon, sei un sarchicon ancora, sei un carnale, o uno psuchicon, o uno che vive ancora in una dimensione molto molto umana. Allora, qui per entrare in questa cosa qui bisogna fare uno step, bisogna fare un salto, bisogna fare un passaggio. Comprendere che nell'eternità, dove non esiste passato, presente e futuro, che cosa succede? Una cosa molto semplice, per esempio, io adesso, 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 adesso c'è il sole, no? Adesso c'è la luce, c'è il vento, ci sono le piante, tutte queste cose, no? Oh, se io mi metto nell'orizzonte dell'eternità in creata. C'è un atto incessante divino, noi dobbiamo rappresentarcelo così perché non ci possiamo entrare, che sta ininterrottamente creando. E attenzione, sta creando tutto, per chi? Per te, per me, per manifestarti in forme variegate e multiple il suo infinito amore nelle sue infinite sfaccettature, per te. Questo è quello che succede, questo è quello che c'è, questo è quello che è. La felice creatura le facciamo vedere e toccare con mano il nostro fatto di stendere il cielo, il vento, il sole, eccetera, eccetera, no? E quindi rimane affogata sotto le onde del nostro amore, che la bombarda da tutte le parti il nostro amore, la nostra potenza, la nostra sapienza. E più si sente affogata, più, perché Dio fa così, cioè, vede che non accenna a finire, cioè Dio non smette, ma è già affogato, basta adesso, sono già affogato, no? Te ne dà ancora, te ne dà. Non dice mai basta. Io altre volte ho fatto l'esempio, no? Cioè, un esempio, mamma mia, un pochino, un pochino forse non adeguato, ma pensiamo, ne so, ai grandi ricconi del pianeta Terra, no? Pensiamo al padrone di Amazon. Cioè, voi sapete che ogni giorno su Amazon, ma ci rendiamo conto ogni giorno su Amazon quale pioggia di soldi si riverserà? Ma ci abbiamo un'idea per il colosso che è diventato. Quindi, ma quello è già l'uomo più ricco del mondo, era uno dei primi 3-4, adesso mi ricordo. Che caspita ce fa con altri qua? Cioè, già con quello che c'ha, gli ci vorrebbero mille vite per specialarselo tutto quanto, non privandosi di nulla, togliendosi tutti gli sfizi e tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili. E continua ogni giorno a dire che altro ce fa con tutta questa roba qua? Ora, questa cosa ci può aiutare un pochino a comprendere, ecco, anche se noi sui soldi chiaramente ci sputiamo sopra, nel senso che accogliamo quelli che il Signore ci manda per vivere, per fare del bene, ma non ne facciamo certamente la ragione della nostra esistenza. Però i soldi sono una rappresentazione di una infinita ricchezza che ti consente in questo mondo di toglierti, di goderti i piaceri della vita terrena. Questo consentono i soldi di fare, per questo che tutti quanti li vanno dietro. Oh, ma Dio ti affoga di piaceri e di cose celesti, continuazione. Tu non sei più dove andarli a mettere, non sei più dove andarti a parare. Gesù ce lo dice questa cosa, ma non è la prima volta che ne parlano, ce lo dice in tutte le forme, in tutte le salse possibili e immaginabili. È così. E io spero tanto che qualcuno che si sta affacciando già in questo mondo, certamente nel piccolo, qualche cosa di questo la cominci è felice a percepire, quindi con lo stato di gioia di vivere. Se uno ti chiede, prova un attimo a chiederti da solo, ma tu sei felice? Ti piace la vita che stai facendo? Sei contento? felice. Ma con tutte le cose brutte che girano, lascia, lascia perde. Tu sei contento? Sei felice? Puoi dire al Signore, mi hai dato una vita che è più bella? Non me la puoi evitare. Non chiedo nient'altro al di fuori di quello che tu mi stai donando. Ecco, io credo che una persona che riesce a dire questo in verità, non è utile che ci raccontiamo le balle a noi stessi, questa persona è sempre angosciata, triste, afflitta, infelice, che va a dire una cosa del genere? È uno stupido. Ma se una persona può dire con verità una cosa di questo genere, personalmente può darsi che mi sbaglio, certamente, anzi sicuramente io di sbagli ne faccio a carretti, però io ho il serio sospetto che qualche cosa di quello che era di una volontà comincia in qualche modo a raggiungerlo, per forza. Pelago delle nostre gioie e felicità nostre, da sentirsi il paradiso nell'anima sua, il paradiso nell'anima sua. E che cos'è la vita nella vita della volontà? È questo continuo, cioè Dio ti manda tutto questo e tu ricambi in amore in interrotto, in amore tra l'altro vissuto nella divina volontà, quindi siccome ti senti troppo piccolo, come faccio a ricambiare tutta questa montagna? Cioè che faccio? Gli devo semplicemente ridare quello che è suo, devo andare a, in tutta la creazione, a mettere tutti i diamo possibili a immaginarli per trovare un qualche cosa che sia adeguato a tanta grandezza e a tanta bellezza. Questi sono alla fine poi i giri che, in un'anima che viene nella divina volontà, è in giro continuo, d'accordo? Non è che, certo, ci stanno dei momenti in cui uno qualche giretto si mette a farlo, certamente, ma è in giro continuo. Come comprenderai quanto sei stato amato dal tuo creatore se vivi nella mia volontà, se tutto vivi nella mia volontà e quanto sei obbligato ad amarti? Quante volte ci siamo detti ripetuti che la vita nella mia volontà è la presa di coscienza di quanto Dio ci ama. Anche tutte le cose che viviamo in questo mondo, diciamo, ma Dio però ci stanno i dieci comandamenti e non posso fare i peccati, ma non puoi fare i peccati. Cioè, tante cose che noi viviamo in questo mondo, ce l'ha spiegato tante volte Gesù, sono tante cose che anche Dio, che non possiamo vivere e che Dio se dipendesse da lui ce la farebbe vivere anche adesso, dipendono dal nostro stato di interdizione che è dovuta al maledetto peccato del mondo. Quando regnerà la divina volontà, la grande, è possibile pensare che qualche cosa cambi? Io credo che sia possibile, credo che sia anche decido sperarlo. Fino a quel momento tanti stati di interdizione che ci viviamo, comunque li continuiamo a vivere, però con questo stato interiore, di una vita risorta, di una vita rinata, pensiamo alla 24esima ora della passione, dove Gesù spiega che la risurrezione è simbolo di un'anima che rinasce nella divina volontà. Le cose di prima sono passate, sono nate di nuove. E vedete che a un certo punto Luisa si inquieta per certi dolorosi ricordi, no? E Gesù dice ma lascia perdere tutto quanto, butta via tutto, lascia perdere, non c'è pensare. Continua a girare nei nostri atti, lascia perdere tutte queste cose. Non lasciare perché se tu assecondi una cosa che ti dà dolore e quindi ti fa perdere la pace interiore, cominci poi a uscire dalla divina volontà, perché non entrano, dice Gesù, in essa, se non le anime pacifiche. Per gli altri non c'è posto. Quindi se tu assecondi un pensiero, un ricordo, balordo o doloroso, che ti turba profondamente, che comincia a toglierti la pace, tu esci dalla divina volontà. Lascia perdere, non li assecondasti i pensieri qui. Che bisogno c'è? Pensa d'altro, distraiti, fai una passeggiata, dite un bel rosario, sentite una bella canzone. Bene, speriamo che in queste poche riflessioni un po' travagliate oggi con questi piccoli incidenti, sia riuscito a trasmettere qualche cosa di quello che percepisci. questa è una grande difficoltà, perché quando preghiamo e quando meditiamo è facile stare davanti al Signore, perché Lui conosce le nostre fibre, quindi non soltanto che capisce quello che diciamo, ma col Signore si parla molto spesso in silenzio, per cui si capisce ancora prima che abbiamo la bocca. È il sogno dei sogni, come vorremmo essere capiti da tutti, soltanto che le creature non possono fare questa cosa, perché non vedono le fibre profonde del nostro essere. Quando si parla di certe cose il linguaggio è sempre molto limitato, per cui bisogna vedere se uno riesce a esternarlo bene, se è una persona come poi lo, come quello che capisce la persona, come lo interiorizza e come lo fa suo. Ci sono tutti questi step da verificare. Speriamo che tutto funzioni bene, ecco, perché veramente, queste sono veramente cose straordinarie e spero che, come dire, la piccola mediazione di quello che dico, che ovviamente non esclude, anzi, il molto che nel segreto e nel silenzio ciascuno può trarre da queste cose, pregandoci davanti al Signore, spero che possa essere un aiuto, che non... Dio non voglia, insomma, uno schermo, insomma, o un velo a accogliere tanta bellezza e profondità. Un grandissimo grazie, Signore Gesù, anche oggi per tutto quello che ci doni. e come sempre, la tua grazia, il tuo Santo Spirito, ecco, ci porti a tirare fuori molto di più di quel poco che è emerso durante la meditazione per poter comprendere sempre meglio, conoscere sempre meglio e quindi amare sempre di più e quindi vivere sempre di più in questo mondo davvero, come dire, santamente sconcertante, ecco, che ci fai conoscere, che ci metti dinanzi, che ci riveli, che è veramente qualche cosa di impressionante. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria